Prosegue il ciclo di incontri, i testimoni del presente, questa volta affronterete come tema l'arte Sì esatto, il nostro percorso dopo essere partiti dell'educazione arrivava l'arte che è un po' uno dei nostri cavalli di battaglia Dopo dieci anni di mostre e in previsione delle prossime con l'incontro di giovedì 18 riaffrontiamo appunto questo tema Il tema è molto rappresentato perché noi abbiamo questa idea, l'arte è un'esperienza in atto Cioè noi e i ragazzi per essere catturati dall'arte dobbiamo fare l'esperienza della bellezza E allora partiremo con Giotto, la Cappella degli Scrovegni, con una specie di incontro che non sarà tanto un incontro conferenza Quanto un incontro show, nel senso che il nostro autore, che è appunto Alberto Filippetti Che su Giotto veramente ha scritto anche dei libri splendidi e sono da anni che si occupa di questo tema Ci presenterà attraverso un vero e proprio itinerario multimediale il fascino che si ha appena ci si accosta e si entra all'interno della Cappella degli Scrovegni D'altra parte l'arte va vista più che raccontata perché è proprio un'esperienza appunto, è un'esperienza in atto Noi proporremo questo alla sera, aperto alla città e poi alla mattina ormai come solito nella nostra formula Lo riproporremo anche ai ragazzi con un taglio molto più legato a domande I ragazzi in questi giorni stanno lavorando appunto su questo tema Sia in storia, sia in storia dell'arte, sia in letteratura Anche perché appunto è il momento in cui con Giotto e a 200 inizia in qualche modo la nostra civiltà occidentale Soprattutto dal punto di vista artistico, letterario e musicale Per cui sarà l'occasione appunto anche per loro per affrontare questo tema da un punto di vista molto più pratico e visivo Forse più che teorico